RANITACCHE 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 LENIČKO No, lo chiamo di grazie a no, su avvi, siamo in lavoro! No, sono in lavoro. No, siamo tutti si sono dentro di vita di paletto di paletto di paletto, specialmente di paletto di paletto di paletto tretto. tutte le progetti di pilot. È una lese di tituto ogni prossimo che si crede nel periodo no non è il Земulo con la tecnica e oggi questa è una festa che si chassino la stessa una giochimana è una giochimana quindi l'invasione è una definizione crediamo oppuremo, ci si potremo simulare una domanda della scola o di studenti. Non lo sovrappi, non ho saputo. Non lo sovrappi. Abbiamo anche un'azienda per questo giorno. Non è il nostro nostro. Stavite. Non è il nostro stavimento. Tu non lo faccio e non lo sovrappi. Non lo sovrappi. Bambuli. Chissà che qui c'è un po' qui c'è? C'è un po' qui c'è l'acqua, perché c'è un po' di c'è l'acqua. C'è un po' di c'è l'acqua, però non c'è l'acqua. Ok, andiamo a l'acqua. C'è l'acqua si fa? Ty vole, normálně jako by se na to dosti těším nakonec. Cidím tato úplně jak najedjší školák. Mám tady úplně krásně všechno prostě vyskládaný, jak prvňáček, to jo. Úplně...kámo. Prostě tato je péro s úznýma hrotama. Anche l'hoh Che più di immagero? Chi più di appello? Che appello? Alla L'hoh ma proprio una divana peggio ad assicurare grazie a e gli avevi si è rimano ma proprio il rosa quando andai non mi paree quindi è ho pensato che sono mi so sono è 명 plupart di mezzo però, è più il più più neggi è proprioストo è io val Prec 생각 del loro Kohinor ty vole No è mi senti anche Soci e emba зачettore che non r접 respeitare che non praticamente che son tanto pubblico che non r tirare Que של formazione C'è un smartphone, non un smartphone, ma un un estatico bacellito, ma un un pubblico totalmente un barbacchico, un granito, una rebocchia. Fai un 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 convecrafto… …è un arbore che non è qui… ...rico che ho trovato. C'è unohno più molto zumo di i bambini. …Ruio, r עלi. No, una roba di scrozione. È proprio così che non senti. Adam è arrivato? Io sono arrivato. Poi 20 minuti? Poi 20 minuti. E tu mi stai tagli dal posto. Alenca si stai seduta, in cui si stai studiare. Pagno. 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 La zrobi alla l' gemeaggio. A poco? A poco! Pagno alla sarà per direzione? Cap. La rosso sulla. Pelosolul. Molto siaciare questa. Scuricare. E doveva fallo bene. Lassoım. Hal? Certo. Ora facciamo il primo tempo, stai insieme a mi chiusci la propria perspettiva. Più che ci sono, non mi disparsi a do ruccio. A già ora? Tantimi traccio e ci penso che andiamo a prendendo il primo tempo. So che è così, è così così. C'è bene. Non ho senti. Ma sono molto più... Non ho senti. A me è stato più traccio. In effetti ci sono più traccio. C'è meglio il lavoro che voglio fare, non ho senti più traccio. la operazione di lavoro no non 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 ma non 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 Niente Portò verserà ne voto spero di essere occida per aumentarire il tutto Io, questo è generale, quello che ho non faccio. Non, però non faccio. Ci sono stato proprio... ...evo le faccio... ...evo fare una cosa. Si ho fatto, va bene, poi ci si ho fatto bene. E poi, perciò, mi sono tutti ho fatto, perciò che si sia più oltre, ma più più oltre, dove è più oltre. Questo è molto più molto più grande, ma mi ha piaccio il fatto, che si trovi dà fare ulleri oltre. Si tu ho fatto, no, no, signoramente, mi sono molto più più oltre, non è completamente normale tu sono secondo me immaginato? ho avviso l'altro 12 volte non sono di umiettere adesso non sono di umiettere adesso non sono di umiettere adesso faccio ho fatto l'abbiamo a io mi l'abbiamo ne faccio la possibilità non ho fatto lo soggio io ho fatto tutto ho fatto l'abbiamo non ho fatto l'abbiamo in quanto riguarda questa non è pure venine no no così normalmente siamo un esercito non なくare sicché non che stai il부� unre Tu ti hanno avviso quando ti faccio? Deliftante. Pها? No stiamo quindi studiando. Che tu ti faccio? Eh, no, che fa fa fare. Cosa significa? Che bole. Ha, fa 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 fare un piano. Non ho capito, cosa che mi chiede. Dessuto cello che? Ciamare? 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 Sì Ciamare sì. Ciamare anche dopo le spavere. Musiamo staglia di spazzo, ma... però pubblico tutto mi abbia... è molto il cliente, mi abbia abbia. C'è un' interessante. Quindi ho fatto scelte quicon un giusto conande da fare del quindi che sono correttante tivari, per capire. Adesso nella stella... Quanto non ho vedo simile più nascenti. Cosa non ho trovare. ma lo ho messo in quanto ho messo, ma lo siano semplici da un pocino alla che mi metto anche un pocino, che non c'è questo quello che mi hanno sentito molto più è più meglio quando qualcuno ha otrotto un pocino delle belle 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 è stato molto molto utahane ma si spessi molto molto svegliamo ma ma sempre guarda sicuramente le guardiamo le le belle 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 è vero, è difficile è difficile guardare le stranze e non lo so penso che non ho poter non ho poter non ho poter è un sacco un pocino un pocino un pocino un pocino e anche la anatomia è molto importante la posizione di l'havare come si può poter questo Occhi! C'è che ti senti a chiuso per se? No! Si si chiede così, chiede mi aca mi aca mi aca. Sei davanti? Si, proprio. Si stavam, ci stavam, non ci stavam. Chi by mi si esbal e si cichal. Nei, chiedi mi a vi rieši. Si tu chiedi tuttavia. Neboj. C'è bravo. C'è stato nel senso, nel senso, nel senso. C'è stato nel senso che... Nacca mi, vi saluto di camera. a che mi chiede qualcosa di più direzione suonare e che si ho trovo non ho chiede non ho chiede non ho chiede in modo che ci ho fatto e non ho chiede che ho fatto non ho chiede e non ho non ho chiede non ho chiede è molto importante per te tenere l'idea se non ho chiede io se non ho chiede se buco è un pocino francesca buco 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 Grazie a tutti. 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 Yeah... Yeah... Grazie a tutti. Yeah... 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 Grazie a tutti. Yeah... Yeah... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah... Yeah... Grazie a tutti. 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 I proposito gli ovviamente sono le chiusi gli ovviamente sono le chiusi e alla chiusi nella systema e siamo alle al vivo e anche i qui nel systeme questo è un bel nuovo longa nel systeme e nel loro chiusi